Buon pomeriggio da Sicilia 24, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo da Paternò, siamo quindi nel Catanese. Un giovane ha sparato al fratello e al padre perché non accettavano la sua decisione di andare a convivere. Il giovane è stato ovviamente arrestato, insieme a lui lo zio che lo ha aiutato. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di lesioni personali e detenzione illegale, porto e alterazione di armi, un uomo di 54 anni e il nipote ventenne, quest'ultimo autore materiale del ferimento tramite l'esplosione di due colpi di fucile a canne mozze calibro 16 del padre di 46 anni e della fratello di 25. La notte di venerdì scorso, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono prontamente intervenuti presso un'abitazione sita nel territorio di Paternò, dove era stata segnalata una sparatoria. Giunti sul posto, gli operanti hanno rintracciato nel giardino le due vittime in evidente stato di shock e conferite d'arma da fuoco al piede e al braccio, che sin da subito hanno indicato quale autore del gesto, rispettivamente il proprio figlio e il fratello di soli vent'anni, in quel momento irreperibile. Immediate le attività investigative volte a ricostruire la dinamica dell'episodio, che anche attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza hanno permesso di accertare come fra i tre familiari, dopo cena, fosse scaturita un'animata discussione degenerata in violenta lite, durante la quale il padre aveva ferito il figlio ventenne alla gamba con una bottiglia di vetro rotta. Motivo del contendere era stato il desiderio del giovane di trasferirsi con la nuova compagna nell'abitazione di famiglia, scelta non condivisa dagli altri parenti. Per tutta risposta il ragazzo, unitamente allo zio, si era allontanato dall'abitazione, aveva recuperato un fucile a canne mozze, illegalmente detenuto, ed era tornato indietro, sparando nel cortile di casa due colpi all'indirizzo del padre e del fratello, per poi scappare via. Nel corso delle operazioni, una volta rintracciato l'assalitore e averlo tratto in arresto insieme allo zio, il quale, oltre a essersi attivamente adoperato, accompagnando il nipote con la propria auto, prima e dopo la sparatoria, aveva anche cercato di intralciare le operazioni di ricerca. È stato rinvenuto e sottoposto a sequestro anche il fucile utilizzato, occultato nel frattempo nelle campagne di Paternò. Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto per il ventenne la misura della custodia cautelare in carcere presso l'Istituto Penitenziario di Termini Merese, e quella degli arresti domiciliari per il 54enne. Ed ora a Catania, dove i carabinieri hanno effettuato due arresti per spaccio di droga, uno degli arrestati è minorenne. I carabinieri del Comando Provinciale di Catania e della Compagnia di Piazza Dante, supportati dai colleghi del XII Reggimento Sicilia, sono stati impegnati in un articolato servizio di controllo del territorio, in particolare nel quartiere San Cristoforo, volto al contrasto dell'illegalità diffusa. In tale contesto operativo, le perquisizioni sia veicolari che personali hanno consentito di denunciare due utenti della strada, poiché sorpresi alla guida di veicoli sprovvisti di patente con recidiva e alla segnalazione all'autorità giudiziaria di due soggetti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. I carabinieri hanno proceduto anche al controllo di 16 persone sottoposte a misura restrittiva presso le rispettive abitazioni, nel cui ambito hanno proceduto alla segnalazione per l'aggravamento di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, che durante il controllo presso il proprio domicilio è stato trovato in compagnia di persone non autorizzate a fargli visita. I militari del nucleo investigativo di Catania, squadra Lupi, hanno inoltre individuato un 32enne che alla loro vista ha tenuto un atteggiamento sospetto e ha occultato visibilmente qualcosa nella tasca dei pantaloni. Quindi lo hanno identificato e insospettiti dal fatto che stesse tentando di occultare le chiavi di casa, si sono fatti condurre presso il proprio domicilio, dove hanno effettuato una perquisizione a seguito della quale hanno rinvenuto all'interno della lavatrice sei bustine in cellophane e due bustine di carta stagnola contenenti complessivamente 400 grammi di marijuana suddivisa in dosi. In un contestuale controllo, i carabinieri della compagnia Piazza Dante hanno arrestato un minorenne catanese che, notato alla guida di un ciclomotore, è stato avvicinato da sei avventori con i quali ha intrattenuto una cessione di denaro. Insospettiti da tale movimento, i militari lo hanno perquisito e trovato in possesso di 50 grammi di marijuana suddivisa in 34 dosi e 10 grammi di hashish diviso in 9 dosi, oltre alla somma in contanti di 120 euro. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni, che ha convalidato l'arresto e disposto l'affidamento a una comunità per minori. Restiamo nel catanese e torniamo a occuparci della tragedia avvenuta stamane a Belpasso. Un'esplosione avvenuta intorno alle 7.30 all'interno della fabbrica di fuochi d'artificio Vaccalluzzo, come detto a Belpasso. Purtroppo c'è anche una vittima, si tratta di Antonino Vaccalluzzo, uno dei titolari della storica azienda produttrice di fuochi pirotecnici. L'esplosione sarebbe avvenuta all'esterno del deposito che non è rimasto coinvolto nella deflagrazione. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti per garantire le condizioni di sicurezza, all'esplosione non è seguito un incendio. Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per cercare di ricostruire le cause e la dinamica di questo tragico incidente. Ed ora invece parliamo ancora dell'emergenza migranti e arriva un'altra notizia tragica. C'era anche il corpo di un giovane migrante, verosimilmente originario del Bangladesh, in uno dei barchini soccorsi la notte scorsa dai militari della Guardia di Finanza vicino Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta affidando le indagini alla squadra mobile della Questura che interrogerà le persone che erano sull'imbarcazione insieme alla vittima. E sono 64 i migranti sbarcati stamattina a Lampedusa a bordo di un natante arrivato da solo e altri due soccorsi a due miglia dalla costa. Gli approdi dalla scorsa notte salgono quindi a 12 e gli arrivi complessivamente a 281. E sono 1112 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa a fronte dei 350 posti disponibili. La struttura di prima accoglienza di Contrada in Briagola è tornata a riempirsi. Cambiamo argomento, ci spostiamo adesso a Castelvetrano nella Trapanese per parlare dei controlli effettuati dai carabinieri, controlli nel territorio di Castelvetrano, controlli che hanno portato a ben 5 denunce. I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, nello scorso fine settimana, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati contro la persona, contro il patrimonio e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state denunciate 5 persone. Un palermitano classe 2000 in quanto, a seguito di una perquisizione personale domiciliare, è stato trovato in possesso di due smartphone rubati poco prima. Un romeno di 22 anni, residente a Partanna, deferito in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore risultato rubato. A seguito delle denunce, sia il ciclomotore che i telefoni cellulari sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Un Castelvetranese di 74 anni, invece, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai carabinieri all'esterno della propria abitazione e per questo è stato deferito all'autorità giudiziaria. Un altro Castelvetranese, un 45enne residente a Triscina, è stato denunciato in quanto è stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvista di copertura assicurativa e assegnatagli in custodia giudiziale in quanto posta sotto sequestro nel 2021. L'uomo dovrà rispondere del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Nell'ambito dello stesso contesto operativo, i carabinieri della sezione radiomobile di Castelvetrano hanno intimato l'alt a un soggetto alla guida di un monopattino elettrico con a bordo un minore, il quale si è dimostrato da subito poco collaborativo e dopo essersi rifiutato ripetutamente di fornire un proprio documento d'identità, si è opposto fisicamente agli operanti con spinte e pugni al fine di sfuggire al controllo, ma è stato prontamente bloccato. A seguito dell'identificazione, il 25enne è stato denunciato. Torniamo a parlare di spaccio di sostanze stupefacenti e restiamo nella Trapanese per la precisione a Marsala, dove i carabinieri hanno arrestato un 26enne straniero con l'accusa appunto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato un 26enne di origini straniere per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i carabinieri nel corso di un controllo presso il centro di accoglienza straordinario per stranieri di Marsala hanno rinvenuto circa 40 grammi di hashish già suddivisi in 57 dosi nella disponibilità del 26enne. Sulla base di quanto accertato, essendo emersi gravi indizi di colpevolezza in merito all'ipotesi di reato contestata, i carabinieri hanno dichiarato l'uomo in stato di arresto. Lo stesso, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida. Il competente giudice per le indagini preliminari, concordando con gli esiti investigativi esposti dai carabinieri, ha condannato l'uomo con rito abbreviato a due mesi e venti giorni di carcere, pena sospesa. Nello stesso contesto operativo, i militari hanno rinvenuto anche una bicicletta da donna di cui era stato denunciato il furto pochi giorni prima. La stessa è stata sequestrata a carico di gnoti e prontamente restituita alla legittima proprietaria. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Due invece gli arresti a Siracusa, sempre per spaccio di droghe, si tratta di due giovanissimi, un ragazzo di 24 anni e la fidanzata di 19. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Belvedere, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni, già gravato da precedenti per reati in materia di droga, e la sua fidanzata, una ragazza incensurata di 19 anni. I militari, che stavano monitorando la coppia da qualche tempo, hanno notato il classico via vai di persone, presumibilmente clienti, entrare e uscire subito dopo dall'abitazione. Il giovane, dopo che la pattuglia lo aveva raggiunto in strada per effettuare un controllo, ha provato a darsi alla fuga a bordo del suo scooter, ma subito dopo è caduto danneggiando anche due auto parcheggiate nelle vicinanze. L'arrestato, peraltro, guidava senza patente né assicurazione. Il motivo del tentativo di fuga è stato subito chiarito una volta effettuata la perquisizione nell'abitazione della coppia. Quando i carabinieri sono entrati, hanno trovato sul tavolo del soggiorno 3 kg di hashish divisi in panetti e numerose dosi più piccole, assieme a 13.000 euro in contanti, che la ragazza stava sorvegliando in attesa del ritorno del fidanzato, non aspettandosi che tornasse accompagnato dai carabinieri, i quali hanno così proceduto all'arresto per detenzione al fine dispaccio di sostanze stupefacenti dei due e al sequestro della droga e del denaro. All'esito dell'udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane, a cui è stata contestata anche la resistenza pubblico ufficiale, mentre la ragazza è stata sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di Siracusa, con permanenza in casa nelle ore notturne. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha tratto in arresto e posto ai domiciliari, ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura, un imprenditore di Gela nell'ambito di un'inchiesta su presunte omissioni di versamenti d'imposta per oltre 4 milioni e mezzo di euro. Nell'inchiesta sono indagate altre 8 persone. Secondo la procura di Gela, l'ingente evasione fiscale sarebbe stata realizzata con l'indebita compensazione di tributi dovuti, realizzata tramite il ricorso all'istituto dell'accollo tributario, nonché mediante operazioni di compravendita di crediti IVA risultati del tutto inesistenti. Il tutto nell'ottica di omettere il versamento dei rilevanti debiti d'imposta ricorrenti nei confronti dell'erario. Ed ora parliamo di una tragedia sulla strada avvenuta invece ad Avola. La vittima è una 34enne Giovanni Cappello, il quale è morto in seguito a un drammatico incidente avvenuto in contrada Tagliatelli. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. Il 34enne è stato trasportato all'ospedale di Maria, ma è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate. Ed ora parliamo invece di un'operazione di salvataggio avvenuta sull'Etna, dove un escursionista era in difficoltà in un'area impervia lungo il versante ovest dell'Etna, è stato quindi ritrovato e tratto in salvo dai vigili del fuoco. Dopo essere stato localizzato durante una ricognizione aerea, l'intervento di recupero è stato effettuato dall'equipaggio dell'elicottero Drago 123, che ha poi trasportato l'uomo in una zona sicura dove ad attenderlo c'era il personale sanitario. E con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS